Allora, sei soddisfatta? Allora ragazzi, oggi sono le 11.57 E noi alle 11.57 partiamo e andiamo a fare shopping Però non uno shopping normale perché andiamo a fare shopping equino Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un sacchissimo di like e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche Ora andiamo Siamo arrivati Andiamo 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 Speriamo sia il negozio giusto perché oggi siamo benvenuti e speriamo di non aver sbagliato il negozio Non so se si vede perché siamo contro luce Una ripresa senza vedere nulla Vabbè, allora smetto, visto che non si vede nulla Ciao Allora ragazzi, abbiamo fatto spese Adesso vi faccio vedere quando torniamo a casa tutto O ve lo facciamo vedere ora? Allora ragazzi, intanto vi dico cosa ho preso e poi lo vediamo meglio oggi in maneggio Allora ho preso la coperta anti mosche per quando la devo mettere in paddock così le mosche non la mangiano perché Osco è anche allergica alle mosche quindi poverina la uccidono Poi abbiamo preso biscuittini di stricante e anti mosche E basta Sì, questo abbiamo preso Dai, così oggi facciamo vedere tutto quello che c'è nella tua cassetta così magari la metti anche a posto Eh sì, sarebbe l'ora S'arrivi, andiamo magari un pochino prima Arriviamo tipo che ne so alle 5, alle 5 siamo in maneggio Poi almeno abbiamo un'ora intera Tanto sì, adesso Ma voi non lo sapete, loro non lo sanno Eh no, non lo sanno ancora, se non glielo dici non lo sanno Allora, dovete sapere che il 17 luglio, sì il 17 luglio, c'è una gara di dressaggio Quindi adesso io mi preparo per un ID30 che sarebbe invito al dressaggio 30 Ragazzi siamo tornati a casa, adesso vi faccio vedere tutti i nostri acquisti Allora, partiamo da questo qua che è di stricante perché lo shushin l'avevo finito E quindi l'ho ricomprato con il suo spruzzino, glielo devo mettere Gli ho preso a logica, con la bottiglietta più bella È un bel metodo di scelta Sì, sì, sì Adesso vediamo come ci troviamo e poi vi diciamo come è L'ozione lucidante L'ozione, scusa L'ozione lucidante, sì Flicca Flicca, districante Vediamo, se funziona lo uso anche con Sofì Mamma E uno Poi abbiamo preso l'antimosche, questo qua Abbiamo preso il tretec che ha detto Giulia che è il migliore Perché siccome è anche oscura e allergica alle mosche Almeno questo è perfetto Perfetto no però Lo proviamo anche questo Abbiamo fino a 14 giorni dall'applicazione Penso che mi duri tutta l'estate Adesso vediamolo E abbiamo preso questo intanto Sperando che sia il migliore Poi E sempre per le mosche abbiamo preso Ah aspetta ecco questo Questa qua che è Aspetta mi devo mettere in piedi Questa è Vediamo se trovo il verso giusto Forse conviene che lo facciamo vedere addosso a oscura Poi il verso giusto Ok Questa è una coperta antimosche Per quando la mettiamo in paddock Si vede anche Sofì dietro Metti su Ecco Sofì La vedete Infatti come potete vedere Guardate È tutta bucherellata In modo che Non gli faccia caldo Però comunque la pari dalle mosche In modo che anche in paddock Sta tranquilla Adesso non gli abbiamo preso la copertina Poi vediamo se c'è bisogno anche della maschera E del collare Del collo Via del copricollo Poi Questo non l'ho comprato dal negozio Dove siamo andati Però È Una scatolina Per metterci dentro Il sapone di marziglia Quando D'estate Gli devo lavare le gambe E così non lo lascio disperso Sempre nel mio La nostra cassetta Sistemiamo tutto oggi Poi Un'ultima questo Tadà Paco e tappa Di Biscutini Alla carotta Tadà Carotta Vedete Vedete Tipo Dal colore Sembrano buonissimi Ma aspetti Questi li posso mangiare anch'io Eh Prodotto da forno artigianale Eh Mi ricordo Natural E vegetale Senza conservanti Una volta Mi hanno detto Che tipo Celui della decathlon La croca Ci sapeva prima Sono buoni Cioè Da mangiare Io non massaggiare Ci vogliono dei denti buoni Perché sentite Mi scrocchia oscura Secondo me Questi sono come Più morbidi Forse Speriamo Adesso oggi li proviamo Vediamo se sono di suo gradimento Quindi Abbiamo preso Tutta questa roba Adesso Tra un po' Quando è l'ora Andiamo ad Auscom Anzi Facciamo così Io tipo Mi vesto da cavallo Un quarto alle cinque E andiamo Così tipo Arriviamo alle cinque Così abbiamo un po' Più di tempo Così li proviamo tutto Eccetera Eccetera Gli facciamo assaggiare I biscotti Perfetto Ci vediamo In mangiù Ciao Sto facendo una clip Così A casa Sono contro luce C'è tutta la roba pronta Aiuto Qui Perché andiamo in barca E Venti E abbiamo preparato la roba C'è anche la roba per cavallo Così poi Un quarto alle cinque Mi vesto Da cavallo Per montare E andiamo Quindi arriviamo un po' prima Tipo arriviamo alle cinque Magari mi vesto un po' prima delle Ma se mi vesto Cioè Mi vesto un po' prima Di un quarto alle cinque Così poi un quarto alle cinque Partiamo Così alle cinque Siamo là Abbiamo un'ora intera Per fare ciò Ok Mamma mi ha detto Mangia questa roba Così poi butta la scatola Ok E cos'è Al Al Cosa Al frutto della passione Buona La mangio Ma diventa una bianca Ok ragazzi Stiamo andando in maneggio Sono tutta Testita dal maneggio Scusate Ho il singhiozzo Ho un po' di ansetta Di felicità ovviamente Perché Oggi Inizio ad allenarmi Per La cara Ci Ci siamo Ci vediamo nel maneggio Il singhiozzo Ragazzi Adesso Prendo la cassetta Andiamo a provare la coperta Usku La pulisco A provare la coperta Tra l'altro Guardate Questo È il mio percorso di gara Così Poi così Tra l'altro qua Ho fatto uno sbaglio Perché è una mezza volta Ovvero In X avanti Tra G e X Alta E poi In lunghe Vado Sono una somata È un po' di sporca Perché è sporca Perché scuola Ci stanno Tutto sopra Vabbè Allora Facciamo così Sofì Questo Onis Tiriamolo tutto fuori Rimettiamo bene Dentro Tutto quanto Così facciamo vedere Cosa c'è dentro Ok Allora Prima cosa Sapone Di margilia Ecco Un po' così Ma noi abbiamo qua Questo Bello Vai Metti dentro Lo metti dentro Tutta la plastica Ma la plastica La puoi anche togliere Ora quando lo mettiamo Dentro Sai Sole L'incremento Fetto da Giulia Questo sapone Che è il migliore Sì Perché quello sole Ora non si trova più Però Era il migliore Questo Lo vediamo Pieno di peli Perché ci lavo Le zompe all'osco Oh guarda È perfetto Va bene Questo lo buttiamo Tappiamo Ma perché Mi vengono Sa tutto scura Scusa Perché devi fare Cosa trovi Dai Metti fuori Per benio tutto E poi Spigna Molto Vai Metti lì vicino Tutto quante cose Poi Brava Spazzola per i cioccoli Che si trova anche La corona Si trova anche Ferramenta Non serve solo per i cavalli Microfibra 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 Vi conviene Non hanno santo Perché puzza D'ambra Questo è Questa è Questa è Emergenza Si Con questo Un'altra Meno vibra Spazzola morbida Spazzola A meno morbida Spazzola per la Liniera Forbicine in casa di Stiglia Shushin Che poi sistemiamo Perché è finito Ci facciamo Il refil Poi Stecca Gentilmente offerta Da poco Natale Bruantino E poi Il burro talco Perché Perché si Ora Bene Adesso Li puliamo E poi Ci dobbiamo mettere Anche i biscottini I bistirafuori L'antimosche Oh che buon odore Mmm Buoni Sì Dio Ma se non me li dai Non posso dire Se sono buoni E io qua come sono Sono buoni Buoni Sono buoni Ma ci fai Fatti vedere Basta i biscotti Basta i biscotti Cicciona Now Ora Sistemiamo tutto E poi Ci rimettiamo tutto Bene Magari Allora Mettiamo a posto Ora Cassetta pulita Abbastanza Allora Mettiamo Districante Aspetta Districante E Quello lì Borrotal Che c'entra Alla perfezione Poi mettiamo Qui Allora Questo Lo mettiamo Qui Qui Poi mettiamo Questo lo mettiamo qua Dove c'è Ma sopra non gli ha fatto Vedere i rossacelli Però eh È vero Qua c'è Il coso E il balsamo Pettinino E balsamo Poi dopo Settimana prossima Facciamo vedere Gli facciamo le trecce Le trecce E quella là Che slinguazza Poi 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 Mettiamo Biscottini Nell'angolo Le cose più grandi Prima Qui Biscottini Poi mettiamo La spazzola La spazzola Un'altra spazzola Oh madonna Oscura Fa karma Trampillizzati Per favore Poi Poi la strichia Questo Il mio Pachiedi Cosa delle questro Vabbè Poi la spugna Qui Il microfibra Mesti sopra Mesti sopra Voilà Perfetto Si chiude Allora vediamo Se Sofì trova Il capo Di questo Eh bene Ce l'ho fatta Tra me Eh Prima un po' Chiudila davanti Sì No Gli va bene Sai Va un po' abbondante Però gli va bene Secondo me Dunia che non gli giri Addosso Andiamo a sentire Il parere del capo Eh Sofì Vado eh Oscura Rinfrescatina Bello Bella 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 Scusa Sei soddisfatta L'altra parte Ecco Ah no Mi hai legato Ecco Ah Scusa 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 Almeno scottiti Ti prego Posco Almeno scottiti Dai Ragazzi Spero a quanto che questo video Vi sia piaciuto Mettete un sacchissimo di like Iscrivetevi Sì Al canale YouTube E attivate la campanella Ding dong Ding dong E ciao Da me Oscur E Ciao 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 Grazie a tutti.